Una cerimonia in piazza Nicola Amore ha ricordato nel pomeriggio il vicequestore Antonio Ammaturo e l'agente scelto Pasquale Paola, uccisi in un agguato terroristico il 15 luglio 1982. Nella chiesa di Santa Maria Donna Regina Nuova si è poi svolta l'undicesima edizione del premio Ammaturo in memoria di quella duplice scomparsa per premiare donne e uomini della polizia di Stato che si sono distinti nella loro attività lavorativa. Per ricordare ma anche per continuare a ricercare la verità tra gli altri su questo duplice omicidio in un periodo assai delicato della storia della nostra città. Parliamo del periodo del dopo terremoto, più o meno nella stessa cronologia del caso Cirillo, vicende su cui non è mai stata trovata la piena verità. Addirittura siamo arrivati al quasi scandalo della rimessione fuori dal carcere di Raffaele Cutolo, probabilmente evitata per un'attenzione pubblica su questa vicenda. Quindi in questo momento non solo si ricorda il dirigente della squadra mobile dell'epoca Ammaturo e dell'agente scelto Paola che lavorava insieme a lui, ma è un monito a quella parte delle istituzioni che ancora hanno volontà, voglia, coraggio e autonomia di ricercare la verità di farlo perché c'è una fetta importante del Paese che vuole la verità sulla storia della nostra Repubblica e in questo caso anche della nostra città.